Apriamo la nostra pagina dello sport con la palla a nuoto. Su nome c'è ancora Massimo Riservo. Del mercato ha parlato il presidente Roberto Dottavio. Alessandro vive a Roma con la famiglia ed è andato alla Lazio perché aveva il desiderio di avvicinarsi a casa. Quella era la sua volontà e noi lo abbiamo accontentato. Abbiamo assecondato la sua decisione anche perché abbiamo sotto mano Davide Romiti, un giocatore che ha già militato da noi e per tale ragione conosciamo molto bene. Un ragazzo serio e di grande valore tecnico per la Serie 2 lo considero un lusso. Per completare il roster probabilmente arriverà uno straniero che andrà ad occupare la posizione 2 o 3. Il nome ancora non si può dire. Infine vogliamo tenere i due mancini Muneroni e Castello. Speriamo ci siano i presupposti. Ha fatto il punto della situazione sugli impianti sportivi Civitavecchiesi il delegato Patrizio Scilipoti partendo proprio dal fattore. Lo stadio da calcio non dovrebbe avere problemi perché quest'anno il Civitavecchia è in eccellenza e non in Serie D. Quindi gli obblighi da rispettare sono minori. Per il 9 settembre è comunque convocata una conferenza dei servizi in cui affronteremo nel dettaglio la questione. Il bando del palazzetto dello sport invece vinto dall'ASPA ha avuto un duplice effetto positivo. Il club di pallavolo lo sta mettendo a posto, spiega sempre Scilipoti ed inoltre si sono liberate tante ore che erano occupate dalla squadra di pallavolo nelle palestre scolastiche. Così facendo tutte le associazioni di Civitavecchia hanno trovato gli spazi che cercavano. Vicino alla risoluzione è anche la grana del pala Mercuri. L'accordo è stato raggiunto, ora dovrà solo essere formalizzato. Intanto però i due club possono allenarsi anche perché la due degli sniper se inizia a breve danno urgenza di usufruire del campo. Automobilismo, doppio sorriso per Raffaele e Gianmaria. Il pilota Civitavecchiese infatti è riuscito ad ottenere due successi su due gare disputate nella tappa inglese del GT Sprint, corsa Donington Park sabato e domenica scorsi. Il nostro concittadino insieme all'ucraino Andri Krungling è riuscito infatti a mettersi tutti alle spalle con la propria auto, la Ferrari del team ucraine nel campionato Pro-Am. Questi due successi portano Gianmaria a quota quattro vittorie in stagione, i tre primi posti ottenuti nell'International GT Sprint ed uno ottenuto a Jerez nel GT Open. Sono molto soddisfatto per queste due vittorie, spiega proprio Gianmaria, che ci portano al quarto piazzamento in classifica generale. Nell'International GT Series stavamo andando molto bene, poi abbiamo dovuto saltare delle gare per concomitanza con altri impegni, alla quale la scuderia aveva dato la precedenza ad inizio stagione, quindi siamo scivolati nella graduatoria. E concludiamo con il triathlon, parte il conto alla rovescia in vista del Trevignano Cross Triathlon, manifestazione in scena sabato a partire dalle 9 sulle rive del lago di Bracciano. La kermesse è stata possibile grazie al patrocinio del comune di Trevignano e alla collaborazione della provincia di Roma. La gara prevede 1000 metri in acqua, 8 km di corsa e 24 di bici per le suggestive vie del paese. Ma questa era appunto l'ultima informazione per l'edizione del Tg Alto Lazio. Vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione e vi ringrazio per la cortesa attenzione. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.